Razzolare bene in passerella, a Trento sfilano le galline più belle d'Italia a colpi di ciuffi e più maggi colorati, la regina dell'Aia ormai è diventato un animale vezzoso e amato anche dalle star. Lontani i tempi in cui erano solo le galline dell'Aia che razzolavano tra i panni stesi e i passi ruvidi di contadini accigliati piegati in due dalla fatica. Allora le giornate erano uova calde e placide covate, e le notti sonni freddi e puzzolenti incastrati in allevamenti stretti sognando un'alba migliore. . Oggi le galline hanno l'incedere altezzoso e la chioma impomatata delle moroseta padobane dal gran ciuffo e l'esibizionismo scoperto ed eccentrico delle showgirl dal collo nudo e delle silkie americane, galline anche loro ma col vezzo di andare a passeggio con padroni modaioli che le mettono sotto braccio e le portano nei locali. . Ed è talmente smaccato il rinascimento delle galline che in quel di Trento, tra scorci di sole e montagni dipinti di autunno, si sono inventati il concorso di bellezza del pollaio. . Una tre giorni di sfilate dei più belli esemplari di razze ciuffate. Saranno in trecento, dicono, bellissime e pronte a sfidarsi o l'ultima piuma per il podio. . E pare di vederla la moroseta accigliata che si fa largo tra i galli del pollaio e si accoccola sulla cesta di paglia attendendo i riflettori e il verdetto dei giudici. . O la polvera arabizzosa che insegue un'olandesina titubante le ruba la scena. . Sono animali docili e intelligenti, dicono gli organizzatori. . Che chiedono solo di rallegrare i giardini e dare uova fresche ai padroni. . In realtà il passaggio, dal pollaio al podio e dal podio alla notorietà, è un po' più complesso. . . Perché qui non si tratta solo di restituire la libertà a questi simpatici e semplici animali che pare siano diventati gli amici da salotto preferiti da vippe e famigliolle metropolitane, raccontano che la modella Gisele Bunchen sia sul punto di sfilare in passerella con una mitica piumata dell'aiai che ci è una gallina di nome Nina che si è fatta la pagina Facebook e vanta 74 mila fan. . Ma di dar loro il ruolo da protagoniste. . Di più, di dar loro quello che non hanno avuto mai, il patentino di belle, leggiadre e leggere. . Un tantino eccentriche nei loro look cotonati, qualcuna forse conta agli improbabili e sgraziati, che poi la moda è una declinazione del gusto, ma libere, altezzose e fiere di guardare loro, finalmente, dall'alto al basso, noi povere donne. . E non è una rivoluzione da poco conto o da ridurre a scelta anomala di qualche allevatore perché nobilitare le gallinelle a reginette di bellezza significa togliere a noi femmine una serie di accostamenti, scappatoie, appellativi e patentini che hanno reso i nostri difetti un po' più accettabili o risibili. . . Insomma dire a una donna over 40 che gallina vecchia fa buon brodo suonerà di ora in poi un po' inelegante. . E per definire le rughe che ci martellano la fronte dovremo trovare qualche raffronto migliore delle mitologiche zampe di gallina che ci hanno ossessionato nei millenni. . Per non dire della gallina dalle uova di oro, ingiustamente anche se democraticamente accostata a qualsiasi essere vivo o morto produca ricchezza. . . O della gallina nera che fa le uova tarda sera, perfetto per le lentone che non arrivano mai alla quadra. . Insomma la rivoluzione delle galline potrebbe ridimensionare noi donne e al tempo stesso rivoluzionare il pensiero. . 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